Non è possibile che il nostro canale è riuscito a fare un'altra parte di un'altra parte. Ma gli serve per lo iodero o per sulla voce così? Perché sennò non faccio lo iodero. Non faccio qualcosa di più. Ah, ah, uno, due. Prova la madalina, pipipipipi Il catalogo è questo Dili belle che amo il padron mio Un catalogo! E questo ho fatto io! Uno, due, prova, sa? Ah, 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 ah!